1.500 chilometri di costa al centro del Mediterraneo, con i suoi porti, barchi di accesso a un territorio straordinario. La Sicilia, un continente in miniatura. I porti della Sicilia occidentale hanno una storia di coraggio e visione, di innovazione e concretezza. Una storia fatta da due elementi indispensabili, ragione e immaginazione. La trasformazione che ha attraversato i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle e che attraverserà Licata e Gela, ha le dimensioni di una rivoluzione. Oggi i nostri scali sono un grande hub in movimento, che ha raggiunto un'alta capacità competitiva e di investimenti, firmando un nuovo modello di sviluppo e cambiando il rapporto con i territori. Fuori la rassegnazione, dentro la fiducia. Porti che raccontano del lavoro duro di persone impegnate nell'imprimere traiettorie studiate per un paesaggio, quello portuale composto da tanti mondi, realtà produttive, economia, cultura e tempo libero. Quale grande opportunità per tutto il paese allora se il capitale Sicilia potesse essere sfruttato e valorizzato in quel Mediterraneo, mare della nostra civiltà, sempre più spazio di competizione geopolitica e sala macchine del mondo. Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. Noi, la Sicilia, il Mediterraneo. Da qui tutte le direzioni sono possibili. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS